Ma ne abbiamo fatte di partite belle, ne abbiamo fatte tante, insomma, le partite con la Juventus l'anno scorso qui a Genova, ancora quest'anno qui. È normale che stasera valeva tanto perché venivamo da due settimane dove eravamo stati probabilmente danneggiati e dove non avevamo soprattutto con la Fiorentina vinto una partita che ormai era nostra ed erano due punti in più molto molto importanti. Stasera siamo venuti su un campo non semplice contro una Sampdoria che qui l'aveva vinte tutte facendo una buona gara senza concedere quasi nulla se non un tiro di Zapata al primo tempo dove è stato bravo Stracossi e poi abbiamo preso un gol evitabile però abbiamo dimostrato di essere una squadra matura che non si è disunita, consapevole delle proprie forze che poteva ribaltarla e così è stato.